Le emissioni di CO2 non sono visibili, ma i cambiamenti climatici hanno effetti reali. Non possiamo più costruire come abbiamo sempre fatto, soprattutto se vogliamo un ambiente sostenibile per le future generazioni. Il cemento è una delle industrie con le più alte emissioni di anidride carbonica e questa è la sfida del futuro. Se vogliamo risolvere questo problema, noi di Heidelberg Materials dobbiamo essere in prima linea. Catturare la CO2 nella produzione del cemento sembrava un'idea impensabile fino a poco tempo fa, ma ha richiesto uno straordinario team di ingegneri e decenni di lavoro per riuscirci. Oggi vi presentiamo EvoZero, il primo cemento al mondo che cattura le emissioni di CO2 e rende il calcio estruzzo net zero carbon. È una pietra miliare per tutti noi, mentre continuiamo a costruire il futuro insieme. Grazie a tutti.